Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori si segnalano due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Per altri lavori, due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e un chilometro di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Per questi lavori lo svincolo di Montelupo è chiuso in entrata in direzione Firenze e in uscita provenendo da Livorno. Spostandoci in A1 in direzione Roma, adesso sono tre i chilometri di coda per lavori tra Valdichiana e Chiusi. Ancora tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma si è verificato un incidente al chilometro 397. In direzione Bologna, coda e a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!